Prima tappa per i velocisti e primo centro per Luke Lamperty. Lo statunitense non si è fatto attendere e nella terza tappa, con partenza da Priocca e arrivo a Magenta, è riuscito a far valere il suo ottimo spunto veloce, conquistando il suo ottavo successo stagionale. Numeri incredibili per questo corridore statunitense, che oggi ha preceduto solamente di mezza ruota Alberto Bruttomesso e Tim Thorne Theotenberg, il tedesco della Leopard. Se poi scorriamo la top 10, vediamo che ci sono altri quattro corridori italiani, ovvero Davide Persico, Alessio Menghini, Alessio Portello e Davide De Pretto. Escludendo De Pretto, che comunque non è un velocista puro, emerge quanto, rispetto a quello che ci siamo detti ieri, ovvero che all'Italia manchi un corridore di riferimento nelle cronometro a livello Under 23, chiaramente. Probabilmente vedere tutti questi corridori è un indizio di come la scuola italiana del Dopo Nibali si stia spostando verso questo lido delle volate, perché in effetti sono sempre di più i corridori che, anche a livello non necessariamente nazionale, riescono a ottenere degli ottimi risultati contro i propri coetanei stranieri. Come detto, pensiamo ad Alberto Bruttomesso, ma pensiamo anche a Nicolo Buratti, che non è al via di questo giro, o allo stesso Davide Persico, che quest'anno ha conquistato alcune vittorie in volata anche fuori dai confini nazionali. E quindi probabilmente la scuola ciclistica italiana si sta spostando verso le volate, questo sicuramente è un bene. Alla fine nel World Tour abbiamo diversi corridori che riescono a imporsi in volata, ma qualcuno in più sicuramente non farà male. E reinventarsi è sempre una cosa positiva per un movimento che probabilmente per troppi anni ha cercato uno scalatore da sostituire a Vincenzo Nibali, una volta che l'età ha preso il sopravvento. Domani comunque si parlerà di tutt'altro, perché si arriva in cima al passo dello Stelvio, c'è la tappa regina con partenza da Morbegno, 120 chilometri e saranno chiamati all'appello gli scalatori su tutti Johannes Staunemittet, che è apparso sin dalla cronometro quello più in forma, è ovviamente il favorito principale per la vittoria finale. Gli italiani non staranno a guardare, vedremo cosa farà Francesco Busatto, ma sicuramente la sfida per la generale è apertissima anche tra tutti gli altri corridori, a partire da Santiago Umba che deve recuperare quasi un minuto da Johannes Staunemittet e domani potrà giocare una delle sue migliori carte, ovvero la sua grande qualità di scalatore. Ma poi non dimentichiamoci il terzetto dell'Agenz Berman con Antonio Morgado, Jan Christen e Darren Rafferty e poi tanti altri corridori, lo squadrone della Jumbo che oltre a Staunemittet schiera Timengrat, Perstra Nagenes e Luevan Belle. Insomma, c'è da divertirsi. Grazie. Grazie.